ci siamo quasi finalmente ragazzo la runa incidi così wow ci siamo bellissimo non è vero mi ricordo che una volta fratello attento ti sono mancato ragazzo corri attraverso il ponte no anch'io sono un dio posso farcela lascialo sono serio valdur lasciali stare prendi me invece farò qualsiasi cosa io ho sempre creduto di aver bisogno di te ma sei solo muscoli e ora scopro che è il ragazzo più a cervello no no hai rotto la porta l'unico accesso agli ottene stupido figlio di puttana allontanati da qui si mi raccomando piccolo scappa lascia che sia paparino a fare il lavoro sporco per te lascia lasciami stare calmati ragazzo tu non sei pronto per questo io sono pronto è io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata tu padre ha ragione sei tutt'altro che pronto ora tieni questo per me grazie è ora di arrenderti stai lontano da mio figlio stai 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 Oh Non ti fermerete! Dispenso in più! Perché non morite? Non ti fermerete! Non ti fermerete! Chi ha attivato il ponte? Ehi! Ti ho fatto una domanda! Troppo tanti! È bloccato! Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi! È finita! Davvero? Non lo penso! Valdur! Tu devi ascoltarmi! Lasciami che aiuti! Ora subito l'ha presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! Ti hai fatto! Ragazzo! Gio! La tua... E fa- Ma la tua... Vinci a te? L'ha stude! Gio! 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 Seda! Non ti fermereteci delle mie sezioni urte! 皮 crimes sonouale usate! Regalate! Ragazzo? Sono qui! Stai fermo! Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre e tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe. Sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Non te lo dimenticare. Noi, non è stato la Rosa Rosì. Grazie mille. Noi, non è stato la nostra. Grazie a tutti.